Un repertorio straordinario con musiche di Bach, Mozart, Schubert, Handel, Verdi e Haydn accompagnati da voci acclamate del panorama lirico come il mezzo soprano Veronica Simeoni, il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Ida Pascu. Duomo gremito per il concerto di San Geminiano che ha visto protagonista la filarmonica del comunale di Modena, diretta dal maestro Irufumi Yoshida. Come sempre Modena si dimostra legatissima al santo patrono al quale quest'anno più che mai si chiede un miracolo che finisca la guerra in Ucraina. Purtroppo questa guerra si sta devastando, sta devastando popolazioni intere e come ha detto anche il sindaco questa sera dobbiamo trovare il modo, la voce per riuscire a fermarla e chiedere anche l'aiuto di Dio perché pare che gli uomini non ci riesca. San Geminiano è la festa di tutti i modenesi e questa sera è stata una serata magnifica. Abbiamo bisogno però di qualcosa di più importante, abbiamo bisogno di un impegno nei nostri cuori per ritrovare la pace. Vogliamo in qualche modo chiedere un altro miracolo a San Geminiano. Questo concerto ci ha entusiasmato perché è un'allocation incredibile, un pubblico fantastico, motivazioni ce ne sono fin troppe perché festeggiare il patrono e parlare di pace anche per noi è molto importante. In prima fila il soprano Raina Kabayvanska è venuta ad ascoltare i suoi tre pupilli, Infantino, la Simeone e la Pasco sono stati infatti tutti i suoi allievi. Ho cantato con loro, insieme a loro, ho sofferto con loro ma sono contenta. Poi esplodono gli applausi per un concerto riuscitissimo, fortemente voluto dalla Fondazione di Modena che ha riunito istituzioni e istituti di credito con l'organizzazione di Modena Amore Mio. L'iniziativa che abbiamo avviato tre anni fa che sta prendendo piede e devo dire che San Geminiano per Modena unisce un'identità civica e spirituale, quindi credo che sia un momento importantissimo per usare il potentissimo strumento dell'arte per lanciare dei messaggi di coesione verso la comunità e in quest'anno particolare anche messaggi di pace perché ne abbiamo davvero bisogno.